Sarà piazzato domattina il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera destinato a sostituire Ponte Morandi. La cerimonia dovrebbe prendere via intorno alle 9.30 alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. L'impalcato del ponte dovrà essere sollevato da gigantesche gru in quanto si tratta di una struttura lunga 50 metri, alta quasi 5, che dovrà essere posizionata a 45 metri di altezza sulle pile di cemento armato appena costruite dal gruppo di imprese incaricato della realizzazione del nuovo ponte. Sembra quindi che il cronoprogramma sia rispettato in pieno con lavori che stanno procedendo in modo celere e fino a questo momento senza particolari intoppi, nonostante le dimensioni del cantiere e delle opere. Alla cerimonia di domattina saranno presenti anche il Sinaco di Genova e Commissario per la Ricostruzione Marco Bucci, il Presidente della Regione Giovanni Toti e l'architettore Enzo Piano che ha donato alla città della Lanterna il progetto di massima del nuovo viadotto.